Ciao amici di MyFastbook, esce oggi 19 aprile 2016 il nuovo libro di Patrizia e Militri Come se l'amore potesse bastare, edito da Sperling e Kapfer. Un romanzo, una storia di ricerca e di un mistero da scoprire e svelare. Questa è la storia di Barbara, quando torna a vivere in paese, insieme al marito e due figli, ha più di una verità da nascondere. È dura ammettere che hanno dovuto chiudere il negozio, che sono in un mare di debiti e non possono più permettersi di mantenere un appartamento in città, che sono diventate una delle tante famiglie colpite dalla crisi. Solo con sua madre non può far finta di niente, del resto si sa. Per una madre il figlio è un libro aperto, non c'è storia. Ma c'è qualcos'altro che nemmeno lei deve scoprire. Un segreto che Barbara custodisce in grembo e che le costerà la decisione più difficile della vita. Una sera, mentre i pensieri le tolgono il sonno, l'unico conforto sembra essere un documentario alla tv. Un piccolo dettaglio la colpisce all'improvviso. Nello studio di un famoso architetto, lì sullo schermo, c'è qualcosa che Barbara conosce molto bene. Una statuina intagliata nel legno, che sua nonna ha sempre custodito gelosamente. Nonna gentile, una roccia per tutta la famiglia, una donna coraggiosa capace di crescere da sola quattro figli al tempo della guerra, con il marito disperso al fronte. Nessuno sa o vuole spiegarle come mai quell'oggetto sia finito là. Perché sua madre sembra tanto infastidita da questo argomento? C'è un punto oscuro nella vita della nonna ed è lì che Barbara vuole scavare. a tutti i costi, come se quella statuina di legno racchiudesse la soluzione a tutti i suoi problemi. Il senso che lei sta cercando. Il consiglio di nonna gentile di cui tanto ora avrebbe bisogno. Un romanzo molto affascinante, un romanzo di ricerca, come vi dicevo, troverà quello che sta cercando. Buona lettura. Grazie. 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 Grazie.